Mi chiamo Daniela Rosati, sono Category Manager di Kroff Home Collection, gruppo V.S. Lavoro in questa azienda da molti anni, prima come buyer, product manager e adesso appunto sono Category Manager di tutti gli acquisti per la casa, living e tessili. Devo dire che è stata una bellissima esperienza tornare dopo due anni, molto eccitata di vedere cose nuove e finalmente di tornare a vivere. Per me Nézogé è una fiera di riferimento, un momento di riflessione, di scoperta, di vedere cose nuove, di fare, di incontrare nuovi fornitori, nuovi contatti. È un bellissimo momento. Io ho iniziato a venire a Nézogé tantissimi anni fa e devo dire trovo un po' di tutto. Idee sul prodotto ma anche idee di visual merchandising, di colori, le tendenze, di come un po' va il mondo. Ecco, c'è un po' di tutto. Sicuramente vedere subito le tendenze e vedere padiglioni, delle ambientazioni con i mobili, con quello secondo me è la cosa più importante della fiera. Ecco, le nuove tendenze, i nuovi stili abitativi, ecco, fondamentale. Ma io vedo un po' tutto, soprattutto poi alla fine mi concentro su tutto il padiglione del tessile, sui due padiglioni del tessile, però cerco di farla tutta la fiera, ecco, di vederla tutta. Inizio dalle tendenze e poi mi muovo su tutti i padiglioni, ecco. Soprattutto anche quando, una volta all'anno, su tutto il mobile estivo, anche su tutto l'outdoor, che è molto molto interessante. Sicuramente sì, perché Parigi da mon cœur è stata bellissima e oggi, questa mattina, dopo due anni, è stata un'emozione bellissima vedere il sole sui tetti di Parigi. Cerco sempre di, appunto, vedere locali nuovi, provare cibi nuovi e poi vedere tanti negozi. Come and enjoy Maison Auger in Paris.